un saluto a tutti gli amanti della sardegna ci troviamo qua a villa simius un bellissimo posto salutiamo i nostri amici a casa giorgio piras tiziano merrus e tutti gli amici gli asini saluta col cazzo che siamo amici qua siamo alla punta si mangia la col cazzo perchè l'acqua che stava qui questa è acqua minerale qua che me la bevo guarda quando è buono ma donna benedetta